A notare la paga del practico in corrente? Sì, mamà. Entrada fuerte. Slingaje y peones, 524 pesos. 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 C'è stata la finestra. Chi dice che agli stelle sono gente, non sape stuocchi che tu ti nel fronte. Sti due stelle li sacchia in su la mente, dinta lo cuore ne tengo le ponte. Chi dice che agli stelle sono gente, scettate caroli con l'aria e doce. Quanto mai è tanto tempo oggi aspettate, accompagnali suona con la voce. Se stasera la chitarra ti ho portate, scettate caroli con l'aria e doce. Oh, 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 oh! Grazie a tutti.